Ciò che sta accadendo in Venezuela è simile agli sviluppi in Siria. A dirlo è il presidente siriano Bashar al-Assad, durante una visita ufficiale di due giorni del ministro degli esteri venezuelano Jorge Arreaza. Le fragranti interferenze di un gruppo di paesi guidati dagli USA, ha continuato Assad, sono tentativi di egemonia sulla sovranità della Siria e del Venezuela. Sanzioni ed embarghi sono esempi di pressioni su chiunque non aderisca alle loro politiche. Arreaza, dal canto suo, ha sottolineato come il partito cappeggiato da Juan Guaidó sia il settore più estremo della destra venezuelana, che ha promosso violenza e morte nelle strade. Ha denunciato inoltre la collaborazione della Colombia nell'addestrare forze di opposizione venezuelana con la complicità di Washington nel fornire le armi. Ma il popolo e l'esercito venezuelano rigettano i germi della violenza. Sappiamo come prevenire qualsiasi conflitto interno, ha aggiunto. La visita a Damasco fa parte di un mini-tour dal Medio Oriente, in cui Arreaza ha già incontrato le principali autorità di Turchia e Libano. Nel frattempo, sempre ieri, il vice-ministro degli esteri russo Ivan Gil ha annunciato non escludiamo di inviare ulteriori rinforzi militari a breve sulla base di accordi sulla difesa stipulati con Caracas nel 2001, aggiungendo che le forze armate russe rimarranno in suolo venezuelano finché ce ne sarà il bisogno. Una risposta alle parole del segretario di Stato USA Mike Pompeo del giorno prima. Washington potrebbe utilizzare qualsiasi mezzo per cacciare le forze russe da Venezuela, aveva minacciato. Gli ispettori della IAEA, Agenzia Atomica Internazionale dell'ONU, hanno svolto il mese scorso dei sopralluoghi nel sito iraniano indicato nel settembre 2018 da Benjamin Netanyahu come deposito segreto di armi nucleari. Secondo il primo ministro israeliano, lì sarebbero stati nascosti circa 15 kg di materiale radioattivo, successivamente rimosso. Una violazione dell'accordo sul nucleare del 2015, quindi. Tuttavia, un'accusa priva di prove. Le autorità iraniane, che hanno sempre sostenuto trattarsi di un'innocua fabbrica per la pulizia di Moket, hanno dichiarato ora di aver aperto le porte del sito di Teheran agli ispettori, affermando «non abbiamo nulla da nascondere, tutto è all'interno della legge». Un colpo di scena inaspettato per Netanyahu, che probabilmente si aspettava una reazione avversa per rinforzare il suo pacchetto elettorale anti-Iran. No comment per ora né da parte dell'IAEA né da parte di Teheran o di Tel Aviv. I campioni sono stati prelevati anche dall'ambiente circostante. Nel caso di uranio arricchito, infatti, le particelle rimangono a lungo anche dopo la rimozione del materiale dal sito. I risultati dei test arriveranno a giugno. Martedì 2 aprile, lo stesso direttore dell'IAEA, Yukia Amano, aveva ribadito. Stando ai nostri rapporti regolari, Teheran continua ad implementare gli impegni presi col trattato. Mosca e Pechino stanno preparando un piano di azione congiunto da presentare al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per risolvere lo stallo nella penisola coreana, attraverso un processo politico e la rimozione delle sanzioni. Ad annunciarlo ieri giovedì 4 aprile, il Ministero degli Esteri russo. «Abbiamo incontri regolari con i nostri partners cinesi su questo», ha commentato fiducioso il diplomatico Igor Morgulov. Oggi stesso, però, l'Assemblea nazionale sudcoreana ha ratificato uno stanziamento di ulteriori 915 milioni di dollari per permettere la continuazione delle operazioni militari congiunte con gli USA lungo la costa. Una misura con effetto immediato. Stando alla CNN, Kim Jong-un starebbe per fare un passo importante. «A suggerirlo è la sua visita presso la tomba del padre, una cosa che fa solo prima di grandi decisioni, come la partecipazione ad un summit o l'esecuzione di qualcuno», commenta l'emittente televisiva statunitense. Intanto, le autorità di Corea del Sud e del Nord stanno collaborando per fronteggiare un disastroso incendio divampato a Goseong, a nord-est di Seoul, proprio ieri, giovedì 4 aprile, e presto estesosi sulla zona boschiva lungo il confine. Shang-Chi-4, atterrata con successo sul lato nascosto della Luna il 3 gennaio scorso, si è risvegliata dal sonno lunare ed ha iniziato nuovamente ad operare. L'annuncio inerente al programma lunare, che prende il nome dalla dea cinese della Luna Shang-Chi, è arrivato da parte dell'Amministrazione Spaziale Nazionale della Cina, che ha riferito. I rover e i lander della sonda Shang-Chi-4 sono stati risvegliati dopo il terzo sonno sul lato più lontano della Luna. Il lander si è svegliato alle 6 e 14 post meridiane di sabato, presentando la piattaforma in condizioni normali. In precedenza, il rover U2-2 si svegliava alle 8 e 28 post meridiane di venerdì. Il lander e il rover eseguiranno un lavoro programmato e continueranno l'esplorazione scientifica del lato oscuro della Luna. Dunque, Shang-Chi-4 farà ancora parlare di sé.